L'Unione Europea potrebbe presto vincolare l'erogazione di fondi comunitari in agricoltura al rispetto delle normative sul lavoro, un modo per sconfiggere la piaga del caporalato. E' questo uno degli esiti dell'incontro fra il commissario dell'agricoltura dell'Unione Europea, Phil Hogan, e il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Hogan ha iniziato il Zoturi in Italia proprio dalla Toscana, partecipando alla conferenza regionale dell'agricoltura che si è svolta a Lucca. Il commissario ha detto che si adopererà per inserire nuove misure sulla legalità e rispetto delle normative del lavoro. Si tratta di una delle richieste del governatore della Toscana, che chiede con forza di togliere i fondi europei dalle mani di chi sfrutta il lavoro nero e ricorre al caporalato. Come diceva poco fa il commissario Hogan, è un segno che oltre all'Europa del mercato e dell'economia bisogna occuparsi anche dell'Europa sociale. Se questa cosa avverrà non avremo davvero perso il nostro tempo e sarà un grande passo avanti, a mio parere, per la legalità e per la tutela del lavoro anche nel mondo dell'agricoltura. È stato anche annunciato che la regione toscana varierà in sinergia con l'Unione Europea, un progetto per affrontare i cambiamenti climatici e prevenire gli effetti più deleteri per l'agricoltura, la siccità e le alluvioni. E visto che l'acqua è fondamentale per tutta la produzione agroalimentare, per l'agricoltura, per l'ambiente, per il cambiamento climatico, è stato deciso che sarà organizzata una riunione con il Presidente Rosso, con gli uffici della Commissione Europea anche in Italia, per lavorare su un nuovo progetto che ci consenta di avere acqua in maggiore qualità e in maggiore quantità. Altri punti toccati nell'incontro tra Rossi e Ogan, la nuova programmazione comunitaria, il sostegno alle imprese, gli aiuti per i giovani, le misure per il credito, le ripercussioni della Brexit e del protezionismo.